No, io ora quando non l'ho presente, io veramente chiamavo, perché è vero che se si trova quello con queste delle piaglie, ci sono, se ti trovi davanti, in lato, poi ci sono in azioni, ci sono tutti piccoli, perché si trova un po' a destra, ci sono praticamente un po' a destra, ci sono praticamente un po' a destra, ci sono proprio un po' a destra, un po' a destra, ci sono un po' a destra, ci sono un po' a destra, ci sono un po' a destra, quindi sono l'agginezza, l'agginezza, presto, un po' a destra, Io non ho idea di dove c'erano i marchi. Pronto? Tirata l'avvocata. E' un prato ben fantastico. Noi facciamo tutte le macchine fotografici, perché è già un prato adesso, però ha un passaggio lungo forza. E' un po' di dirci, si fare delle belle foto sull'altro come lì.